Spesso in gara non riesce a dimostrare tutto quello che vale, invece in questa gara come hai visto è stata piena di grinta, di convinzione, delle sue possibilità e quindi io sono molto contenta perché sono convinta che possa portare avanti i colori italiani. Poi sono grata a tutte le ginnaste della squadra nazionale campione del mondo per aver partecipato e reso ancora migliore lo spettacolo della Serie A e aver fatto gli individuali. Grazie Isabella Zunino-Reggio per il commento tecnico e per la sincronizzazione a Domenico Castaldo, linea che torna allo studio.